Come possiamo commentare questa sconfitta di una partita dai due volti? Un ottimo primo tempo da parte vostra, una ripresa di marca biancazzurra? Sì, come ha detto lei abbiamo fatto un ottimo primo tempo di qualità, di intensità dove abbiamo messo lì il Pescara e siamo stati solo sfortunati o poco precisi nelle occasioni che abbiamo creato. Addirittura siamo andati in svantaggio su un rinvio sbagliato, ma quello ci può stare e siamo stati bravi immediatamente a rimediare. Nel secondo tempo c'è stato, come hanno visto tutti, un calo. Un calo che può essere fisico, mentale, di personalità. Rivedendo la partita, parlando con i ragazzi, vedendo alcune situazioni, dobbiamo capirlo perché sono già tre partite nella mia gestione che succede che nella ripresa la squadra cala. E' successo poi a Juve Stabia in casa, è successo a Spezia, ma lì eravamo rimasti in dieci. Oggi c'è stato un calo proprio da parte di tutti e undici i giocatori, quindi di conseguenza quando non c'è smarcamento, non c'è forza sulle gambe, subisci l'avversario, anche se il gol è venuto su un cross, non penso che abbia tirato. E alla fine siamo stati anche un pizzico sfortunati nell'occasione del doppio palo. Insomma, non siamo stati neanche fortunati in quell'occasione là. Resettiamo immediatamente, dispiace per i tanti tifosi che non hanno avuto lo stadio perché sappiamo quanto ci vengono una partita del genere e abbiamo mercoledì l'opportunità di rifarci immediatamente. Ti chiedo una cosa, ti chiedo Roberto, le grottaglie ai nostri microfoni ha detto che tatticamente ha dato delle indicazioni differenti all'intervallo, ha fatto alzare di più gli interni sulle uscite sul vostro portatore di palla. Vi ha messo un po' in difficoltà questo? Ma siamo andati in difficoltà, ripeto, nello smarcamento, nell'uscire a giocare, nell'uscire a tenere palla con gli attaccanti e di conseguenza il Pescara ha provato ad usare un po' di più, è stato più propositivo, è venuto a prenderci più avanti. Ci sono anche contromisure da prendere quando la squadra ti pressa e vai a giocare magari diretto con le punte sperando che riescano a tenerti la palla per far salire la squadra, è una cosa che non è successa, un po' per la precisione, perché comunque sia Marcello che Gianluca, sia Scamarca che Trotta erano veramente stanchi, Morosini aveva i crampi, Puccino tra tanto che non giocava non aveva più e quindi quando in una squadra ci stanno 5-6 giocatori non al top in quel momento rischi di concedere azioni all'avversario. Lei parlava di questi cali nei secondi tempi, nelle ultime gare, è preoccupato per questo e le chiedo se è preoccupato anche per questa classifica che sicuramente alla vigilia del campionato i tifosi bianconeri non si aspettavano. A me non sono preoccupato, a me mi scoscia per tre partite dove nel primo tempo meritavamo di stare magari anche in vantaggio di un paio di gol e nel secondo tempo hai creato pochissimo, tranne che nel finale, ma per la disperazione e hai concesso all'avversario di vincere la partita. Insomma, quindi dobbiamo immediatamente risettare, capire quelli che sono stati i problemi, gli errori e andare avanti perché abbiamo ancora tante partite a disposizione per uscire da questo momento. L'ultima te ne faccio in realtà due perché sono da risposta secca. Quanto sei stato vicino quest'anno alla panchina del Pescara e se arriverà prima o poi il momento di Stellone a Pescara? La seconda, se mi dici se la vittoria del Pescara è meritata, sì o no? No, visto che il primo tempo ha fatto meglio l'Ascola e il secondo tempo ha fatto meglio il Pescara, e anche un pareggio ci poteva stare. Quanto sei stato vicino, soprattutto dopo Frosinone-Pescara, alla panchina? Non so quanto sono stato vicino. È vero che hai rifiutato? No, ho rifiutato, no, c'eravamo fatti una chiacchierata. Dopo Frosinone-Pescara? Non ricordo, poi sai benissimo che il Presidente lo conosco da prima che diventasse il Presidente del Pescara, quindi ci eravamo fatti una chiacchierata, ma poi dopo mi ha cercato l'Ascoli con insistenza e ho scelto di venire qua. Sono contento e spero di regalare soddisfazioni al Presidente e alla società perché devo ripagare la fiducia data. A proposito di Pescara, per chiudere davvero, cosa pensa Roberto Stellone di questa squadra dei valori tecnici? È un Pescara da medio-bassa classifica, un Pescara che può ancora sperare di inserirsi nella zona play-off? No, la classifica è molto corta, insomma, venivano da tre sconfitte, questa vittoria sicuramente a loro. A livello mentale, oltre a dei tre punti, li rilancerà sicuramente. Siamo là, siamo tutte lì vicine e anche il Pescara potrà sperare qualcosa di meglio.